Romano Colore Style, il futuro è uno spazio vuoto da riempire e colorare con la tua immaginazione. Tutti prosciolti perché il fatto non sussiste. I pescatori della costiera amalfitana che erano stati accusati di malversazione ai danni dello Stato. A disporre il non luogo a procedere per 41 imputati, mentre per un altro il giudizio è stato rinviato a maggio per difetto di notifica, è stato il giudice Maria Zambrano. Per il GUP, stante la natura del finanziamento, concepito come indennizzo per la cessazione dell'attività di pescatore e la genericità dell'impegno ad una riconversione professionale, la mancata destinazione delle somme percepite ad intraprendere altre attività non può ritenersi una condotta penalmente rilevante. Una quarantina agli imputati, quasi tutti di Cetara, accusati di aver destinato ad alti scopi le somme stanziate dall'Unione Europea per la riconversione delle loro attività e aver sperperato così una somma che nel totale arriva ad 1.800.000 euro. Gli inquirenti avevano emesso per tutti un avviso di conclusioni delle indagini con l'ipotesi di malversazione per non aver investito in nuove attività imprenditoriali i 40.000 euro provenienti dal Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013. Quel finanziamento era stato disposto come compensazione per la cancellazione dal registro dei pescatori marittimi per consentire a chi abbandonava il settore, da tempo in crisi, l'avvio di nuove imprese, magari nel pescaturismo. In Campania ne risultano beneficiari in 300, ma secondo le verifiche della Guardia di Finanza sarebbero in pochissimi ad aver impiegato i fondi pubblici per lo scopo a cui erano destinati. Oltre che sulla costa malfitana, i riflettori della magistratura salernitana si erano accesi anche su altre zone costiere della Campania. Insieme ai procedimenti penali è scattata anche un'inchiesta della Procura regionale della Corte dei Conti, che tra l'area salernitana e quella napoletana ipotizza un danno erariale di circa 8 milioni di euro. L'inchiesta, partita diversi anni fa, aveva creato clamore e forte preoccupazione tra i pescatori della Divina Costiera, determinando i presupposti per un'irreversibile crisi del settore. A sostenere le tesi difensive, il collegio composto dagli avvocati Antonietta Cennamo, Dario Barbirotti, Aniello Liguori, Anna Sassano, Antonella Senatore, Costantino Montesanto, Gaspare D'Alia e Matteo Cardamone.